Un lotto della farina di grano duro senatore Cappelli dell'azienda agricola biologica Gorfini di Anghiari è stato ritirato dal mercato per la presenza di piombo oltre i limiti di legge. Si tratta del lotto da consumarsi preferibilmente entro il 10 luglio 2018 venduto in confezioni da un chilogrammo. Questo tipo di farina è prodotto appunto nello stabilimento di San Lorenzo ad Anghiari. Su quanto accaduto c'è una nota ufficiale dell'Asl Toscana Sud-Est. È stato lo stesso produttore, spiega Guido Bichi, responsabile della sicurezza veterinaria e alimentare, dopo aver effettuato le proprie analisi ad autodenunciare immediatamente il fatto e quindi a mettere in sicurezza i propri clienti. Questo, prosegue la nota, è sintomo di onestà e trasparenza. Si tratta di episodi rari e quindi non ci rimane che ringraziarlo. A quanto pare il problema è stato originalmente da un macchinario per la pulitura del prodotto difettoso e già sostituito dall'azienda. Quasi la totalità della farina venduta è già stata rintracciata e ritirata dal mercato.